Queste sono le nuove aule che stiamo allestendo per il nuovo anno accademico. Le lezioni cominceranno il prossimo 23 settembre. Sono aule costruite per consentire a tutti gli studenti di in assoluta sicurezza di frequentare le lezioni. Oggi l'aule è allestita per una procedura concorsuale che si svolgerà nei prossimi giorni, ma questi sono i nuovi spazi, i nostri nuovi spazi per il prossimo anno accademico. Ma tutte le aule saranno attrezzate per consentire di trasmettere tutte le lezioni a distanza. Quindi gli studenti potranno ascoltare le lezioni in presenza oppure da casa a distanza. Attenzione, affinché questo sia possibile è indispensabile che formalizziate la vostra iscrizione arrivando al numero di matricola, perché attraverso il numero di matricola noi possiamo consegnarvi le credenziali che vi consentiranno di collegarvi per seguire le lezioni online. Vi ricordo che avete tempo per iscrivervi fino al 18 settembre, che è la data nella quale vi saranno consegnate le credenziali per poter seguire le lezioni online. Grazie!